primo nucleo la difficoltà le prime fasi si riferiscono senz'altro alla nascita del soggetto nella completezza del suo essere deve essere già completo in sé contenere gli sviluppi che otterrà se li otterrà in questa fase ogni discepolo deve farsi bambino consapevolmente affrontare l'esperienza con l'innocenza di chi compie i primi passi verso una meta o seguendo la via tracciata in ogni caso consapevolmente riconoscere cioè porre attenzione concentrata alla vera difficoltà potrebbe anche non sembrargli di riconoscerne ma questo sarebbe già un cercare la strada veloce la scorciatoia il trucco in questa via però non esistono trucchi possibili né tantomeno scorciatoie il sentiero presenta difficoltà di approccio e di disposizione di sé nei confronti dell'esperienza stessa potrebbe esserci qualcuno che rifiuta l'idea di avere qualcosa da imparare sia nella fattispecie che in generale potrebbe trovarsi di fronte alla propria difficoltà caratteriale corrispondente alla certezza di sapere conoscere quanto serve il blocco caratteriale è senz'altro il primo ostacolo da prendere in considerazione e solo questo può richiedere anni di lavoro interiore infatti anche il discepolo predestinato dalle occasioni che la vita presente gli ha offerto può intraprendere il percorso ma poi abbandonarlo sotto la pressione della fatica delle problematiche interiori altrui sociali caratteriali e decidere di attuare il proprio percorso in un'altra esistenza va considerato infatti che il sentiero sottile non è un compito da svolgere o da imparare si tratta di rimettere sempre tutto in discussione non attraverso sterili domande alle quali non siamo in grado di dare risposte ma attraverso il concentrato vaglio il setaccio ancestrale trovare il punto sul quale riusciamo a porre autenticamente la nostra attenzione la nostra comprensione riconoscere di essere come bambini che stiano accennando i primi incerti passi nell'abisso della conoscenza l'accettazione delle esperienze che l'esistenza ci propone e la comprensione delle stesse attraverso la nostra profonda adesione può essere un punto di partenza ma volte ricercatori particolari si pongono nella disposizione dell'avanzamento diretto verso la prova come il cacciatore dello spirito con la propria lancia alla ricerca del proprio cibo spirituale si disponga nella vita attivamente non rimane in attesa lancia se stesso come strumento di conoscenza con coraggio provare se stessi attraverso le vere prove in quanto l'iniziazione non è una palestra non ci si allena ad essere un buon iniziato non si può fingere se non a rischio della perdita totale di se stessi la soltezza accenna al fraintendimento principale del sentiero sottile esso riguarda l'approccio di superficie consapevolmente colpevole di ottraggio la verità alla difficoltà reale che non va mai sottovalutata esso riguarda coloro che pensano di poter trasformare il mondo senza trasformare innanzitutto se stessi e quindi il proprio approccio con il mondo il quale rimane una nostra proiezione o visione interiore e che risultano pertanto in influenti sul piano dell'avanzamento della coscienza universale non è nemmeno possibile considerare l'iniziazione una necessità questo determinerebbe la formale vicinanza ma la sostanziale lontananza in quanto la necessità è forma proiezione di qualche problematica interiore è la rappresentazione di un ganglio risolto dell'interiorità del soggetto l'individuo deve divenire consapevolmente co-creatore di sé nella contemplazione dell'autentico sé centrale non figurato o immaginato per procedere nella giusta direzione non deve sentirsi mai sicuro di essere giunto a destinazione nella rappresentazione del sentiero sottile come percorso che conduce al tempio del riconoscimento della sacralità egli diviene tempio di sé stesso e tutte le operazioni necessarie alla realizzazione di una partenza verso questa opera devono essere necessariamente sane e compatte per permetterne la buona riuscita si deve essere pronti semplici bimbi ricercatori senza sosta buoni osservatori conoscitori del silenzio della dedicazione all'attenzione e alla sincerità profonda non ha valore in questo contesto l'ambizione il mistero della nascita di sé al sentiero sottile contiene il principio nascosto di due agenti la dualità in senso assoluto e specifico riconoscibili come elementi co-creatori vanno considerati sia gli elementi compresenti nel soggetto stesso che costituiscono la sua unità sia nel senso della singolarità sia in quello dell'integrità che gli elementi che riguardano la sua meta anche la dualità composta da singolo e collettività l'interazione tra le parti che compongono questi insieme l'incontro dei mondi interiori di ciascuno con tutti gli altri e ciò che ne scaturisce rappresenta un altro principio fondamentale della dualità questo insieme allo stadio iniziale viene definito come una sorta di ermafrodito spirituale il concetto relativo alla completezza di sé richiede coesione delle parti che compongono la dualità implicita dell'individuo che incontra il mondo intesa come separazione dalla madre dal mondo perfetto dell'infanzia dalla perfetta relazione felice dal proprio figlio dal proprio mondo e così via la ricomposizione felice e consapevole della dualità deve avvenire inizialmente a livello interiore del soggetto poi la sua ricerca può allargarsi al di fuori di sé